Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio. È un eroe. Io so Chris, sono un amico di Valerio. Non importa cosa ti sei. Adesso mi chiede sempre. C'è bisogno di una famiglia, non me lo secco no. Non ce l'ho mai avuto un amico come te. Perché non me lo dici? Che cosa? Che paura. Grazie per la visione!